E le donne che fanno la, 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 la Le conoscete allora? Questa si chiama Mesh Up Revolution Sono arrivati Che non so, dalle, che non so, dalle Piedi in bonte siete pronti? Che va da cielo? Se senti la musica, spingi! Prendetevi il sbalco, le ragazze di una ragazza per il cinema Moda e patoginia Non vedo le mani, forza ragazzi! Non vedo le mani, forza ragazze di una ragazza per il cinema Passatutto duro, forza! La, 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 la non so come funziona a ballare seduti ma se proviamo ad alzarci in piedi forza le mani al cielo piedi bonte ci siete